Qui, tre, occo, il scudetto terza giornata di andata, Giulio, Pasano, Bologna, con la maglia numero 77, Bosnia, Taubislav, numero 3, Bonassi, Stefano, 13, Dall'Archuto, Giammaria, numero 24, Simanti, Luca, 25, Derardi, Simone, 17, Demontari, Schiavi, numero 21, Elayel, Caimano, numero 6, Pedretti, Lorenzo, numero 10, Savini, Giacomo, numero 12, Rossi, Michele, 27, Sanzo, Giro, Giacomo, numero 14, Tedesco, Matteo, numero 8, Gentile, Luca, numero 7, Garao, Sebastiano, Mario, il signor allenatore tedesco, Giuseppe, ed ora, la Junior, Pasano, numero 16, Pintuodio, numero 32, Pasino, Cento, Romagna numero 17, Dessano, Giorano, Romagna numero 6, Dessano, Spauro, numero 5, Aspano, Aione, numero 16, Demis, Giorgic, Romagna numero 18, Andrea Leal, numero 39, Giulio Vitturi, numero 38, Giulio Vittuverdi, Romagna numero 7, Kevin Puglini, Romagna numero 3, Nicolo Tassino, numero 99, Francesco Dupino, Romagna numero 10, Giancarlo Cosmarzo, e Romagna numero 14, il capitano, Fabio Messina, il signor allenatore Francesco Alcone, il signor allenatore di Cozzurla, Manca, vi donna un minuto di silenzio disposto dalla federazione per la scomparsa per il capitano della Fiorentina Davide Astori e il dirigente di Giorgio Capra. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Sembra di una squadra di avvocati o sessuali. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.